In questo esercizio abbiamo una raffica di pallotto di ciascuno di 3,8 grammi che si conficca orizzontalmente con velocità di 1.100 metri al secondo su di un blocco di 12 kg inizialmente in quiete, su un piano orizzontale. Viene chiesto di calcolare la velocità che assume il blocco, qui non è specificato la raffica di pallottole, in effetti il numero complessivo sono 8 pallottole. Quindi vogliamo sapere qual è la velocità che assume il blocco. Allora il sistema è questo, abbiamo il nostro blocco di massa, possiamo scriverlo M ad esempio, e poi abbiamo 8 pallottole che hanno ognuna la stessa velocità, che è questa, quindi possiamo indicarle per una solamente, quindi V1 che poi sarà uguale a V2 e V3 e tutte le altre, che è pari a 1.100 metri al secondo e il nostro blocco inizialmente ha velocità nulla. La massa, le singole pallottole hanno una massa M piccolo, che appunto è 3,8 grammi. Vogliamo sapere, dopo che tutte queste pallottole si sono conficcate sul blocco, non saranno tutte qui dentro, qual è la velocità che ha assunto il blocco, quindi avrà una certa velocità, una certa velocità V. Allora per fare questo possiamo sfruttare le proprietà del centro di massa, poiché ovviamente sul sistema non agiscono forze esterne, in quanto se non viene specificato diversamente possiamo trascurare gli attriti, e la forza peso è bilanciata dalla forza reazione vincolare, per cui la velocità del centro di massa del nostro sistema, la Vcm, deve essere uguale a una costante. Quindi ce la possiamo calcolare in questa prima configurazione, la velocità del centro di massa deve essere uguale alla velocità del centro di massa calcolata in questa seconda configurazione. Però ovviamente in questa configurazione in cui abbiamo tutte le pallottole che sono all'interno del mio blocco, il centro di massa sicuramente si troverà all'interno di tutto il sistema, e quindi la velocità del centro di massa sarà esattamente uguale alla velocità V con cui si muove il mio blocco. Quindi per calcolarmi la velocità V con cui si muove il mio blocco non devo fare altro, dopo quindi che tutte le pallottole si sono conficcate sopra, non devo fare altro per calcolarmi la velocità del centro di massa che è al limite di tutto il sistema, che poi deve essere uguale anche alla velocità del centro di massa calcolata prima dell'arrivo delle pallottole, poiché abbiamo detto questa grandezza è costante, visto che non agiscono forze esterne dal sistema, dove con il sistema intendiamo appunto le pallottole e il nostro blocco stesso. Quindi la mia V è uguale alla Vcm, la Vcm la posso calcolare in questa configurazione, sarà data da che cosa? Da M1 V con 1 più M2 V con 2 più puntini puntini M8 V8, perché sono 8 le pallottole, più la massa M grande per la velocità del mio blocco, possiamo chiamarla V con 0, diviso la massa complessiva, quindi la massa M grande più 8 volte le masse M1 e M2, quindi 8 volte la massa M picco. Quindi questo M1, M2 e M8 in realtà sono tutti uguali a M, sono pallottole tutti uguali, e questo V1, V2, V3 e V8 sono tutti quanti uguali a V, e la mia V con 0 in realtà è uguale a 0, perché inizialmente il mio blocco è fermo. Quindi questo si traduce semplicemente in un 8 volte M per V con 1, abbiamo chiamato a V con 1 la velocità delle nostre pallottole, 8 volte M della pallottole per V con 1, più 0 abbiamo detto fratto 8 volte per M piccolo più M grande. Quindi questa sarebbe la velocità del centro di massa che poi abbiamo detto essere uguale alla velocità complessiva V. Quindi se qua andiamo a sostituire, quindi al nostro M piccolo andiamo a sostituire il nostro valore 3,8 grammi, 3,8 per 10 M in 3, alla velocità V con 1 andiamo a mettere 1100 metri al secondo, qua andiamo a mettere 8 per 3,8 per 10 M in 3, più la massa M che è pari a 12 kg, questo risulta uguale, facendoci conti, 2,78 metri al secondo. Questa velocità ovviamente è molto piccola se la confrontiamo con i 1100 metri al secondo delle nostre pallottole, però bisogna anche tener conto che le nostre pallottole hanno una massa che è molto piccola rispetto alla massa iniziale. Quindi la velocità del centro di massa, nonostante questi singoli pezzi abbiano una velocità molto grande, poiché questi sono molto piccoli, la velocità di tutto il centro di massa in realtà è molto piccola e quindi la velocità del blocco una volta che tutti le pallottole si sono conficcate che è pari alla velocità del centro di massa sarà alla fine abbastanza piccola rispetto alla velocità iniziale delle singole pallottone. In questo esercizio abbiamo un proiettile di 4 kg che viene sparato orizzontalmente da un cannone di 3000 kg a una velocità di 300 metri al secondo rispetto al suolo. Viene chiesto di calcolare la velocità di rinculo del cannone. Quindi abbiamo un sistema di questo tipo, il nostro cannone con dentro un proiettile, quindi il proiettile viene sparato in avanti con una certa velocità, V con P, a una certa massa M con P, il cannone è una certa massa M grande, evidentemente andrà all'indietro, questo è abbastanza intuitivo, con una certa velocità, V con C, che è la velocità del cannone. Quindi per calcolarci la velocità di rinculo, la velocità del cannone, possiamo sfruttare la conservazione della quantità di moto. Ovviamente questo sistema lo possiamo considerare come un sistema isolato, almeno dal momento in cui si ha l'esplosione, quindi che fa partire il nostro proiettile, possiamo trascurare le altre forze che agiscono, peraltro agirà la forza peso, che sarà comunque bilanciata da una relazione vincolare, ma nell'istante in cui avviene l'esplosione, possiamo sicuramente trascurare le altre forze che agiscono, quindi il sistema si può considerare isolato, e quindi si deve conservare la quantità di moto, un istante prima dell'esplosione e un istante dopo l'esplosione. Quindi la mia quantità di moto iniziale, complessiva, deve essere uguale alla mia quantità di moto, come vettore, ovviamente finale, complessiva. La mia quantità di moto iniziale, complessiva, è uguale a zero, perché ovviamente inizialmente tutto quanto è fermo, tanto il proiettile quanto il mio cannone, successivamente la mia quantità di moto finale sarà la massa del proiettile per la velocità del proiettile, come vettore, più la massa del cannone per la velocità del cannone, ovviamente anche questa come vettore. Quindi questo significa, visto che questo deve essere uguale a zero, che la massa del proiettile per la velocità del proiettile deve essere uguale a meno la massa del cannone per la velocità del cannone. quindi questa è la relazione che viene fuori come vettori quindi questo significa che questi due vettori ovviamente visto che le masse sono solo gli scalari questi due vettori devono avere direzione la stessa direzione ma versi opposti quindi se prendiamo ad esempio questo come verso positivo quindi chiaramente la velocità del proiettile sarà positiva e la velocità del cannone sarà negativa quindi se andiamo adesso a tradurre questo in la direzione è uguale per tutti e due deve essere uguale proprio perché questi due vettori devono essere sono vettori opposti diciamo a meno della presenza della quantità scalare però questo ci dice il fatto che ci sia qui un meno ci dice che la direzione è la stessa ma i versi sono opposti quindi se passiamo agli scalari possiamo scrivere m con p per v con p deve essere uguale a m con c per v con c dove appunto abbiamo tolto il meno perché abbiamo tenuto conto che i due versi sono uno opposto all'altro quindi questo ci permette di scrivere che la velocità del cannone sarà uguale alla massa del proiettile fratto la massa del cannone per la velocità del proiettile quindi la velocità con cui il cannone rincule all'indietro è tanto più grande quanto è grande la massa del proiettile è tanto più grande quanto è grande la massa la velocità del proiettile la velocità con cui viene sparato il proiettile ovviamente è tanto più piccola quanto più grande la massa del cannone perché se il cannone è molto grande ritornerà rinculerà all'indietro con una velocità molto piccola perché ovviamente la quantità di moto complessiva deve essere uguale a zero quindi la quantità di moto del proiettile deve essere uguale e opposta a quella del cannone quindi se il cannone ha una massa molto grande deve avere una velocità molto piccola affinché le due quantità di moto, di proietti e di cannone, siano uguali. In questo esercizio abbiamo un vagone di massa m che si muove liberamente su un piano orizzontale con una velocità v con 0. Un uomo di massa m piccola inizialmente fermo sopra il vagone e inizia a correre con una velocità v con r rispetto al vagone stesso, però in verso opposto a v con 0. Viene chiesto di calcolare la velocità finale del vagone, quindi una volta che l'uomo si è messo a correre con una certa v con r in verso opposto. Quindi la situazione è la seguente. Abbiamo un nostro vagone che si muove inizialmente con una certa velocità v con 0, ha una massa m grande e su questa c'è l'uomo di massa m piccolo inizialmente fermo, successivamente l'uomo comincia a muoversi con una certa velocità v con r rispetto però al vagone e il vagone quindi invece di andare a procedere a una velocità v con 0 procederà a una certa velocità v finale che è quella che vogliamo calcolarci. Quindi questa la chiamiamo v con m finale, questa è la velocità v con r rispetto al vagone e la v con 0 è la velocità che ha inizialmente tutto il sistema. Allora poiché su questo sistema un uomo più vagone possiamo considerare che non agiscono forze esterne, se consideriamo che non c'è attrito perché il vagone si muove liberamente e che tutte le componenti, le forze peso che agiscono possono bilanciare della reazione vincolare verso l'alto, il sistema è un sistema isolato, quindi deve mantenere costante la sua quantità di moto. Quindi la mia quantità di moto iniziale, P iniziale deve essere uguale alla mia quantità di moto finale. La quantità di moto iniziale la possiamo calcolare, P iniziale sarà uguale ovviamente alla massa m piccolo più la massa m grande per v con 0, poiché inizialmente sono ambedue le masse che si muovono a una certa velocità v con 0. La mia quantità di moto finale, P finale, sarà uguale alla massa dell'uomo m piccolo per la velocità v con m piccolo finale più la massa m grande del vagone per la velocità v con m finale, che è proprio quella che ci vogliamo calcolare. Questa velocità dell'uomo alla fine ovviamente non la conosciamo perché sappiamo la velocità con cui si muove il nostro uomo rispetto al vagone stesso, ma non la velocità con cui si muove rispetto al suolo, se vogliamo, che è dove c'è il nostro sistema di riferimento. E quindi noi stiamo calcolando ovviamente la quantità di moto in un certo sistema di riferimento che è solidale con il suolo stesso, quindi la dobbiamo calcolare tanto prima quanto dopo rispetto a questo sistema di riferimento, quindi prima sarà data questa, dopo sarà data questa relazione, dopo questa velocità appunto è la velocità dell'uomo però rispetto al sistema di riferimento solidale con il suolo e non rispetto al vagone. Però conosciamo la velocità con cui si muove il vagone, conosciamo la velocità con cui si muove l'uomo rispetto al vagone, quindi possiamo scriverci la velocità con cui si muove il nostro uomo rispetto al sistema a terra utilizzando le relazioni che legano appunto le velocità viste in sistemi di riferimento che sono in moto uno rispetto all'altro, quindi se abbiamo v con r che è la velocità nel sistema di riferimento in moto che sarebbe quello solidale col vagone stesso e v con fm, v con m piccolo finale che è la velocità nel sistema di riferimento fisso, possiamo scrivere che la velocità nel sistema di riferimento fisso, quindi la velocità finale della massa m piccola dell'uomo nel sistema di riferimento fisso sarà uguale alla velocità relativa con cui si muovono i due sistemi che è proprio la mia v con r più la velocità che ha, no, la velocità cioè che ha il sistema che ha il mio uomo nel sistema in moto che abbiamo detto essere v con r perché è la velocità con cui si sta muovendo rispetto al sistema in moto più la velocità relativa tra i due che in questo caso è proprio la velocità con cui si sta muovendo il vagone, quindi la mia v con m con f. Quindi la nostra velocità finale nel sistema di riferimento fisso è uguale alla velocità con cui si sta muovendo il mio vagone, v con m, f più la velocità con cui l'uomo si sta muovendo sopra il vagone, quindi più la mia v con r. Questo ovviamente come vettori tenuto conto che sono tutti sulla stessa direzione e tenuto conto dei versi perché abbiamo detto che il mio v con r è opposto al v con 0, quindi se v con 0 è in questo verso che è quello positivo, questo mio v con r è in verso negativo, abbiamo che la mia v, f, m sarà uguale a v grande, v, m grande con f meno v con r. Quindi a questo punto dobbiamo sostituire questo qua dentro e uguagliare la quantità di moto iniziale e la quantità di moto finale, quindi avremmo che m più m piccolo più m grande per v con 0, quindi lo mettiamo direttamente come scalare, è uguale, questa è quella iniziale, a quella finale, ossia m grande, v con m grande finale, che è questa più m piccolo per la mia v con m piccolo finale, ossia questa, quindi v con m grande finale meno v con r. Quindi a questo punto possiamo ricavarci l'unica incognita che è la mia v con m finale, quindi da questo se ci ricaviamo la nostra v con m finale, questa risulta uguale a v con 0, se andiamo a farci conti, più m per la velocità v con r fratto m grande più m piccolo. Quindi il risultato che abbiamo è questo qua, la mia velocità del vagone alla fine sarà uguale alla velocità iniziale v con 0 più un certo termine, che dipende da quanto è grande la massa dell'omino rispetto alla massa di omino e vagone e da quanto è grande la velocità con cui si sta muovendo ovviamente il nostro uomo. Più il nostro uomo si muove velocemente rispetto al vagone, più il nostro vagone praticamente si trova accelerato, cioè più la velocità finale del vagone è maggiore rispetto alla sua velocità iniziale. Questo ovviamente perché abbiamo supposto che l'uomo vada con una v con r che è in verso opposto a v con 0, qualora invece l'uomo cominciasse a correre in verso opposto, quindi se v con r fosse stato orientato in questo verso, l'unica cosa che cambiava qua era questo segno più, quindi questo praticamente si tradurrebbe da più diventerebbe un meno e la mia velocità finale del vagone sarebbe uguale alla v con 0 meno un certo termine, quindi il vagone rallenterebbe piuttosto che accelerare. Quindi se l'uomo ovviamente corre in questo verso, nello stesso verso in cui procede il vagone, complessivamente il risultato finale è che tutto il sistema uomo più vagone rallenta rispetto alla condizione iniziale, mentre se corre nel verso opposto tutto il sistema accelera rispetto alla condizione iniziale. Ovviamente questa differenza di velocità si mantiene fin tanto che l'uomo si mantiene in moto con una certa v con r, non appena l'uomo si ferma nuovamente, questo termine sparisce e la mia velocità ritorna a essere la velocità iniziale del sistema. Grazie. 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 Grazie.